Torna da Roma con un buon risultato la delegazione abruzzese capitanata dal presidente Gianni Chiodi che ieri ha incontrato il governo per discutere del patto per lo sviluppo, un pacchetto di fondi destinati a rilanciare l'economia della nostra regione. In Abruzzo arriveranno tutti i 611 milioni di euro di fondi FAS senza la decurtazione del 5% che ha interessato tutte le altre regioni ad eccezione del Molise. Il governo regionale potrà contare anche su ciò che rimane a seguito dei tagli della manovra finanziaria del Fondo per le Infrastrutture. A disposizione 206 milioni di euro sui 962 originariamente previsti, soldi che però potranno essere integrati attraverso iniziative di project financing con i privati. Per la zona franco-urbana dell'Aquila il governo di Roma ha garantito tutto il suo sostegno per un'azione di pressione nei confronti di Bruxelles. Il presidente Berlusconi incontrerà in settimana il presidente della Commissione europea Barroso per cercare di superare gli ostacoli burocratici che impediscono l'instaurazione della zona franca nel capoluogo aquilano. Dovranno essere oggetto di ridiscussione invece gli altri punti all'ordine del giorno nell'incontro romano tra cui il master plan che andrà modificato ma su cui c'è un'intesa di massima, gli ammortizzatori sociali e il credito d'imposta per le imprese che assumono. Ad un prossimo incontro anche il discorso sulle aree industriali di crisi, la soddisfazione del governatore Chiodi. L'occasione di confronto col governo è sempre una cosa molto importante soprattutto quando l'Abruzzo ha detto che intanto ha fatto la sua parte, ha fatto la sua parte per i processi di risanamento, risanando la sanità, riducendo l'indebitamento, richiudendo le società che producevano utili, sedere le sedie all'estero, quindi ha fatto quello che doveva fare. A questo punto ha bisogno anche di quell'impegno da parte statale per le cose che lo Stato deve fare.